Questa è una moto elettrica, è sulla base della 966, è una macchina praticamente della competizione ed è la prima presentata con i kit di montaggio e geo-inversione elettrica, quindi batterie lipo, sono accoppiate, regolatore elettronico e tutte le caratteristiche sono quelle della macchina a scoppio a parte la motorizzazione, molto bassa, molto leggera, è una nuova era per il modellismo di questa categoria, come sta accadendo anche nel fuoristrada dove l'elettrico sta un po' caratterizzando questi anni.